Buona Pasqua della settimana a te, Anna Maria, alle nostre amiche e ai nostri amici. Ci siamo lasciati per la festività dell'Epifania, che è una delle tre, perché poi la seconda Epifania è oggi, è quella del Battesimo, la terza Epifania è quella di Cana di Galilea, dove Cristo si rivela sposo dell'umanità in attesa di sposarci su quella croce da cui ci salva, come dice Sant'Omaso, ci ha salvato con la croce, non con la resurrezione, innanzitutto con la croce, ma abbiamo visto anche a Natale che già il mistero dell'incarnazione, ce lo diceva Sant'Alfonso, ce l'ha ripetuto San Bernardo, lui nasce per morire. Che cosa succede con il Battesimo, con questa festa meravigliosa che chiude il tempo di Natale? In un certo senso, dall'Epifania al Battesimo, il tema proposto è la manifestazione del Signore, ecco perché anche Cana di Galilea, dove diede inizio ai segni che lui fa, egli manifestò, dice il testo di Giovanni 2.12, egli manifestò la sua gloria, quindi è interessante vedere come già anche Cana è una manifestazione, come lo è stato l'Epifania e come oggi anche è il Battesimo. È un Dio che in Gesù Cristo è presente nella storia. Noi abbiamo letto un'antifona liturgica molto bella nel Lodi dell'Epifania, si chiama l'antifona delle tre O. Oggi la chiesa, lavata dalla colpa nel fiume Giordano, si unisce a Cristo suo sposo, accorrono i magi con doni alle nozze regali e l'acqua cambiata in vino rallegra la menza. Alleluia! È una bellissima antifona che mette insieme e lega le tre manifestazioni del Signore, dunque le tre Epifanie. L'Epifania del 6 gennaio, oggi, 12, il Battesimo di Gesù, Cana di Galilea. In un certo senso il primo ingresso di Gesù avviene nel suo ministero, ormai lo contempliamo grande sul fiume Giordano, avviene nel contesto del Battesimo di Giovanni. Noi potremmo definire Gesù colui che rappresenta la soglia tra l'eternità e la storia, tra quel Dio padre e l'umanità. Papa Francesco, proprio nel giorno dell'Epifania, ci ha ricordato quanto sia importante adorare, adorazione. E in questa parola c'è proprio ados, adorare, significa stare alla soglia dell'eternità. Carissimo amico il Vescovo di Chieti, Monsignor Bruno Forte, grande studioso, grande teologo e pastore, se lo spiega proprio in una bella intervista. Stare alla soglia dell'eternità, un'umanità che smette di adorare il Signore, evidentemente smette di perdere la direzione. Il momento del Battesimo, il momento in cui Gesù inizia il suo ministero, lui è davvero colui che sta alla soglia tra l'eternità e la storia. Lo svolgimento del Battesimo ci viene ricordato oggi dalla pagina del nostro Matteo, al capitolo 3, nei versetti 13 a 17. Gesù che vede lo Spirito di Dio scendere, venire su di lui. Che cosa è successo? Che Gesù dalla Galilea scende al fiume Giordano, compie un cammino di quasi 100 chilometri per giungere ai guadi del fiume e prendere parte a quel rito penitenziale che Giovanni Battista faceva, come richiesta di perdono, non come perdono accordato già. Sono due cugini, non si sono mai visti, sono cresciuti in mondi separati, hanno avuto una vita indipendente l'uno dall'altro, ora provvidenza di Dio si incontrano, perché entrambi devono agire secondo il progetto del Padre. Giovanni, che è profeta ed è l'ultimo dei profeti, riconosce che il Cristo è più forte di noi, perché egli battezza con l'acqua, in realtà Gesù battezzerà in spirito e fuoco, dice il testo di Matteo. E Giovanni dice non sono degno di portare i suoi sandali, di sciogliere i legacci dei suoi sandali, un modo per dire io non sono lo sposo. Nel quarto Vangelo dirà sono l'amico dello sposo, sono colui che prepara il matrimonio, ma lo sposo è Gesù Cristo. Molto bella questa figura messianica dipinta con toni accesi, quasi violenti. Nelle attese di Giovanni c'è un messia che deve essere un giudice che non avrebbe usato misericordia, che avrebbe portato soluzioni radicali al problema del peccato. Un Giovanni che si aspetta un intervento potente di Dio. In realtà anche lui dovrà fare un cammino, una teshuà, una conversione, un ritorno a Dio. Per cui nel dialogo che c'è oggi tra Gesù e il Battista evidentemente bisogna riconoscere una messianicità diversa. Il Battista addirittura oppone resistenza. Tu vieni a me, quasi a dire dovrei essere io a venire a te. È un po' disorientato da questo messia così strano che non si aspettava. E Gesù nel testo matteano, molto bello, in Matteo 3,15, dice «lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Quasi a voler dire «noi due dobbiamo agire, fare il progetto che ha il Padre». Sono molto belle queste parole di Gesù. Sono le prime parole che Gesù adulto dice nel Vangelo di Matteo. Lascia fare per ora. Si deve adempiere la giustizia. Che cos'è quella giustizia? Ciò risponde alla volontà del Padre. Per cui c'è un atteggiamento di obbedienza che Gesù vuole dare anche al Battista. Perché Gesù riconosce, come volontà del Padre, l'obbligo di inserirsi in questa catena di uomini che vanno da Giovanni per farsi battezzare. Lui non ha bisogno di essere battezzato. Ma il battesimo è l'incontro trinitario tra il figlio, il Padre e lo Spirito Santo. E Gesù è questa soglia. È molto bella come idea. Gesù è quel Dio incarnato. Lui collega l'eternità alla storia. Per cui non dobbiamo pensare che sia inferiore a Giovanni. Gesù non ha bisogno, non ha peccato, non ha bisogno di chiedere perdono. Ma il battesimo è l'inizio di questo ministero, di questa unione che viene a portare tra il cielo e la terra. Poi lo dirà ancora molto meglio Giovanni nel quarto Vangelo. Lui è quella zigurat, la sorta di piramide che collega il cielo alla terra e gli angeli che salgono e scendono su di lui. Perché Gesù è l'unico collegamento. L'ha detto il prologo di Giovanni a Natale, anche nella seconda domenica. ex e ghesato. Lui è la via che ci porta al Padre. Ecco perché chi legge Matteo non può non notare questa frase. È bene per noi compiere ogni giustizia. Gesù è venuto per confermare, per portare a pienezza quella Torah, per compiere la legge. È interessante anche, come dire, guardare che l'Evangelista Matteo presenta Gesù e Giovanni in una sequenza così ravvicinata. Giovanni sarà molto il precursore soprattutto non solo nella predicazione, ma anche nella morte. Lui anticipa quella morte che poi avrà anche Gesù Cristo. Per cui è interessante guardare a questi due personaggi che oggi si incontrano. Tutti e due, in un certo senso, Giovanni, che è l'ultimo dei profeti, e Gesù, che è il figlio di Dio, moriranno tutti e due per compiere la giustizia del Padre. Per cui sono beati tutti e due. Siamo di fronte a due stili diversi. Giovanni è un predicatore impetuoso, forte, che aveva l'idea di un Messia violento, vendicativo. Gesù si presenterà proprio in Matteo 11, 25 e 27, mite e umile di cuore, colui che si abbassa, colui che compie ogni giustizia, colui che si immerge nell'acqua del mondo per risalirne con la forza del suo amore. Ecco, lo stile di Dio in Gesù Cristo è proprio quello che aveva anticipato il profeta Isaia, il secondo Isaia, Isaia 42. non griderà né alzerà la sua voce, non spezzerà la canna inclinata. Molto belli questi passaggi biblici. Per cui questo battesimo di penitenza del Battista in verità diventa la conversione stessa del Battista. Lui stesso deve cambiare idea sullo stile del Messia. Il Messia non è come pensava lui. È invece umile, non spezza la canna inclinata, non spegne lo stoppino fumigante. Sono immagini splendide per dire che Dio non è venuto a distruggere, ma a purificare, a correggere, a umanizzarci. Ecco perché Matteo, quando poi riporta Gesù che risale, non esce, ma risale dall'acqua, in un certo senso c'è un esodo. Gesù è venuto per farci fare un esodo dall'io a Dio, un cammino di liberazione, che è poi la simbologia della resurrezione. Ecco perché i cieli furono aperti, dice il testo greco, c'è un passivo, è il padre che agisce, e Gesù vede lo spirito che scende su di lui sotto forma di colomba. Ed è lui solo che ascolta la voce del padre. È il momento vocazionale di Gesù, la chiamata di Gesù, l'investitura ufficiale. Tu sei il figlio mio, o agapetos, l'amato, il prediletto. Queste parole sono una dichiarazione fondamentale e programmatica. Ecco, Gesù è colui che rappresenta la soglia tra l'eternità e la storia. Lui è venuto per portarci verso il padre, per compiere ogni giustizia. Allora il battesimo di Gesù oggi è la sua occasione messianica, l'investitura messianica, il momento di grazia che lui riceve con umiltà. E Giovanni deve accogliere e riconoscere in questo gesto davvero la bellezza del figlio prediletto del padre. Ecco, davanti a Cristo tutte le creature devono fare questo cammino di cambiamento di mentalità. Dicevo a Benedetto XVI ci siamo costruiti un Cristo a nostra misura. I Vangeli invece ci restituiscono chi è davvero quel Dio. Colui che ha messo tra parentesi il suo essere Dio, si è svuotato, ha preso la forma umana. Dio ci salva con la sua debolezza. Ecco, la Chiesa oggi contemplando il mistero del battesimo di Gesù, l'investitura messianica, ricorda a tutti noi che Gesù è venuto per immergerci nel mistero pasquale, per farci creature nuove, per chiamarci alla santità. Ma la santità è una umanizzazione piena e completa. Ecco perché, cari amiche e cari amici, buon battesimo di Gesù, buona vocazione, buon cammino e soprattutto buona conversione. Buona Pasqua della settimana.